Ciao a tutti e benvenuti e oggi studiamo Voci del Mondo. La Easy Chitarra Orchestra è stata invitata alla Giornata contro le Mafie dall'Associazione Libera e abbiamo pensato di suonare questo brano per far sentire la voce libera di tutti i bambini. Ho trasformato il brano da C maggiore a A maggiore perché nell'orchestra ci sono bambini anche di 6 anni e quindi preferisco evitare il bar D. Gli accordi del brano saranno questi A maggiore, D maggiore, E maggiore, incontreremo anche un G maggiore e un accordo particolare che è un F undicesima più ma molto semplice da suonare è come un E maggiore ma spostato di un tasto in avanti. Ritmicamente suoneremo sempre con questo andamento Giù, Giù, Su, Su, Giù, Su Vi canto il brano lentamente per poterlo studiare magari dicendo gli accordi. Subito dopo invece troverete il brano così come va realmente interpretato. La maggiore Per ogni giorno che Re maggiore Sento la vita in me Mi maggiore Vivo uno sguardo di semplice poesia La Ancora la Tutte quelle braccia Re che si alzano Sol maggiore Sol maggiore Sol maggiore Sono speranze che gridano con Mi maggiore La Noi insieme Re Noi Mi E La Questo è il ritornello eh Ancora la Noi insieme Re Per mi Mi Noi insieme Re Per quello che sa Mi La Re Mi E La Noi insieme Re Mi E La E La Mi Fa undicesima Più Mi Il senso a volte scegliere di credere Mi maggiore Fa undicesima Più Il vostro mondo salvere Mi maggiore Mi maggiore Fa più persone rese schiave Dalle Mi maggiore Fa undicesima Più Spietate Melodie Di unare al Re Maggiore Ancora Re Mi maggiore O meglio Mi settima La Noi insieme Non Per Crescere Eccetera Quindi come avete visto ci sarà solo alla parte finale prima di riprendere il ritornello un Mi settima ma volendo potete anche suonare un Mi maggiore senza problemi subito dopo il Re Proviamo a cantare il brano Per ogni giorno che sento la vita in me vivo uno sguardo di semplice poesia Quando cammino e sorrisi intorno a me scaldano il cuore e un viso fragile Tutte quelle braccia che si alzano sono speranze che gridano con noi 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 insieme Noi insieme Noi per crescere Noi insieme Noi per vivere Noi insieme Noi per vivere 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 Il senso a volte scegliere di credere che tutto il nostro mondo salverà. Persone rese schiave dalle pavole, spiettate melodie di una realtà. Noi insieme, noi per crescere, noi insieme, noi per vivere, noi insieme mai lontani per quello che sarà. Noi insieme, noi per stringerci, noi insieme mai lontani nel mondo che sarà. Ci vediamo il 21 marzo con la Easy Chitarra Orchestra nel Parco Alfuviale di Sulmona con l'Associazione Libera per la Giornata Contro le Mafie. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, magari di mettere un like e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! 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 Ciao!